RISPONDA, RISPONDA, BANITO L'ANIMA DELLI MORTACCI MI LE PARE, TROIO Mi sembra anche quasi banale in realtà un po' parlarne Però secondo me più se ne parla e più alla gente entra in testa Perché se io sono donna e vado a letto con più uomini sono una troia E se invece tu uomo vai a letto con tante donne sei un figo? Sempre per quello che ti dicevo, cioè la cultura patriarcale Che in realtà vede in un'idea di mascolinità la parte vincente Il vero problema, vedi, è che quando si parla di cultura patriarcale Non stiamo dicendo uomini contro donne Gli uomini e le donne dovrebbero insieme combattere questo tipo di cultura Perché anche agli uomini in realtà nuoce questo maschilismo tossico Allora, è andato virale un tweet su Twitter del mio account fake Di quello là che si spaccia per me Però stavolta ha fatto un tweet giusto questa volta Quindi dobbiamo fargli complimenti Perché c'è Alessia Lanza Che se io vi consiglio di andarvi a sentire il podcast di Alessia Lanza Perché Alessia Lanza si domanda come è possibile che per gli uomini non esista il termine troio E quindi... e quindi... niente Quindi niente Ed è bello, ed è bello perché in quel podcast riesce Riesce a non sembrare la persona più stupida Perché l'altra persona, la psicologa Dice che il termine troia andrebbe eliminato dal vocabolario Perché ormai... ormai è troppo usato E non va bene È tempo infatti di levare anche aggressione Aggressione non... quando meneremo una donna Quando ci meneremo fra di noi Quando aggrediremo un cane, un gatto Tutte queste cose non varranno più la pena Perché ormai ogni volta che uno fa qualcosa sui social Si usano dei termini a randella E quindi visto che quel termine usato a randella perde il suo significato È meglio levarlo direttamente dal vocabolario italiano E vabbè, è un ragionamento Voglio dire, ci sta A teatro facevano così A teatro ti spammavano le n-word all'infinito Fino a quando la n-word stessa non perdeva valore Ha un nome preciso questa cosa di cui non mi ricordo mai Lo dico ogni volta in stream e puntualmente non mi ricordo mai E niente Abbiamo un paio di emote nuove Abbiamo un emote ragazzi Ma boh, dico con tutta l'amore del mondo Abbiamo la emote n Per un ragazzo che aveva vinto una settimana di sub giftate E non gliel'avevamo mai messa Usatela bene per favore Non la usate male Non ha proprio senso È stupido mettervi a fare certe cose con le emote Perché non vale la pena Hello, Gloshard!